Siamo assolutamente contrari, ma il problema è che questo governo parla solo di poltrone, parla di terzi mandati. Noi stiamo ancora aspettando che la Meloni ci dica qualcosa sul caro Mutui, stiamo aspettando che la Meloni ci dica qualcosa sul caro Bollette, sul carrello della spesa, abbiamo fatto le proposte sul salario minimo, anche sulla riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario. Su questo non c'è traccia, non abbiamo tracce del governo sui temi che interessano i cittadini, invece si parla solamente di poltrone, mandati e si cerca di proteggere il proprio governo anche da inchieste giudiziarie, si cerca di limitare la Corte dei Conti sul PNRR, è tutta un'attività di questo genere e spero che prima o poi i cittadini abbiano contezza di quello che sta facendo veramente questo governo. Non bello soprattutto perché sono i primi ad aver eliminato il loro lavoro passato, hanno seccato il loro presidente di regione, ammettendo che hanno lavorato male in questi cinque anni e adesso vogliono riciclarsi da un punto di vista di immagine. Noi abbiamo un progetto molto serio con Alessandra Todd che sta facendo un grande lavoro, spero che i sardi la premieranno per cambiare quello che è stato un operato sicuramente negativo in Sardegna del centro-destra. Non è assolutamente così, Alessandra Todd che non vuole il Movimento 5 Stelle o il PD o i capi politici, non è così. Cerca di dare un messaggio forte sui contenuti e per i sardi e credo che sia anche un elemento di serietà. Noi tutti, a cominciare dai leader, tutti i parlamentari, saremo con Alessandra Todd e cercheremo di darle un aiuto sotto tutti i punti di vista, però credo che la sua chiusura sia un elemento di serietà che i sardi di spero colgano.